Cosa il Parlamento sta votando oggi, 2 agosto 2016, in fretta e furia e all'ombra di qualsiasi riflettore? La modifica alla legge numero 243 del 2012. Allora cerchiamo di spiegare in maniera chiara quello che voi state facendo con tanta grazia. La legge 243 del 2012 è la legge che riguarda il principio dell'obbligo di equilibrio e di bilancio degli enti locali e territoriali. Quindi una modifica che, visto lo storico che abbiamo sulla finanza locale, magari sarebbe stata anche auspicabile, anzi sarebbe stata auspicabile una riforma intera di questa tipologia di legge. Ma, come sempre, avete colto l'occasione per andare in una direzione completamente opposta alla direzione che poteva essere auspicabile dai cittadini e anzi andate in una direzione che si ripercuoterà sui cittadini stessi e sui servizi che verranno a loro offerti. In questi mesi noi abbiamo visto una situazione politica in cui vi siete vantati, spesso di aver strappato, per esempio, flessibilità all'Unione Europea, ma, come sempre, avete parlato in realtà del nulla, in confronto all'orizzonte di austerità da cui non siete stati in grado, neanche per un secondo, di togliere il sguardo e mai, mai siete riusciti in realtà a contrastare. Il contesto in cui ci troviamo oggi, dal punto di vista della finanza pubblica, della finanza locale, è un contesto di un paese in cui vengono fatte continue privatizzazioni. Per ultima potete vedere quella delle poste, in cui si ha l'obiettivo di incassare un paio di miliardi di euro da buttare poi nel fondo di ammortamento del debito pubblico, debito pubblico che supera ampiamente i 2.100 miliardi e quindi non si fa assolutamente niente, anzi, ritroviamo un debito incodato attorno al 133% che, nonostante queste continue privatizzazioni di asset italiani che voi state svendendo, non calerà affatto, come invece ci ha fatto credere per mesi la vostra fanfara mediatica. Ebbene, questa fanfara spenta, le trombe hanno smesso di suonare e ci ritroviamo in una situazione in cui, ad autunno, purtroppo, per l'ennesima volta, i cittadini italiani capiranno l'ennesimo blef di questo governo. Cosa vi sono serviti in questi mesi queste parole in contrasto alla flessibilità, gentilmente, secondo voi, concesse da Bruxelles, da Francoforte e da Berlino? Signor Presidente, non sono serviti a niente. L'unica flessibilità che Renzi e Padoan usano bene è quella della schiena. Quando si piegano, si inchinano al passaggio di signori Merkel, Schoble e Draghi e non fanno assolutamente niente. Grazie al Movimento 5 Stelle in Parlamento abbiamo riguadagnato quel briciolo di sovranità, ne vorremmo guadagnare sempre di più nei tempi di trasmissione della legge di bilancio rispetto all'Unione Europea. Solo grazie al Movimento 5 Stelle si ha un po' di trasparenza in più circa l'impatto dei derivati sui conti pubblici, ma solo un po', perché per noi bisogna fare qualcosa di più, bisogna fare probabilmente quello che voi ritenete uno sgarbo troppo pesante, le banche d'affari, controparti del Tesoro. Volevamo più spazio per gli indici di benessere, vogliamo più spazio per gli indici di benessere di cui vi siete riempiti la bocca e che sono confinati invece in un allegato. Perché il Movimento 5 Stelle sa che senza una svolta sostenibile, senza un cambio di paradigma, questo Paese purtroppo, dal punto di vista dei conti e anche di altro, è destinato ad affondare. Non ci sembra che il presente disegno di legge vada nella direzione auspicata della semplificazione e della definizione di una procedura celere, flessibile per implementare gli investimenti. Dobbiamo ricordare che in ogni caso il livello di finanziamento dello Stato ai livelli di assistenza essenziali delle prestazioni, nonché delle funzioni fondamentali, i cui standard sono definiti a livello centrale, deve essere calcolato anche in ragione dell'effettivo o fa bisogno, seppur definito da norme specifiche. I limiti della spesa pubblica sono stringenti, non si può non tener conto quando si definisce il livello delle prestazioni da erogare. Bisogna avere anche la consapevolezza che è impensabile definire i livelli essenziali di assistenza senza assicurarne contestualmente il finanziamento. In caso contrario si farebbe ricadere la spesa solo su altri livelli di governo, senza avere un beneficio a livello di finanza pubblica. Noi ci ritroviamo in una situazione in cui questo provvedimento è stato affrontato per l'ennesima volta con una metodologia contraria a quella parlamentare, superficiale, frettolosa, solo un pomeriggio per gli emendamenti in Commissione, anche se il documento in esame avrebbe richiesto un'attenzione maggiore ed un dibattito molto più serio, visto l'importante tema trattato riguardante la finanza locale. Il Movimento 5 Stelle è contrario alle politiche di austerity e rigore intraprese da questo Governo e caldeggiate dall'Unione Europea. Abbiamo bisogno di un'inversione di rotta decisa per poter riprendere la situazione economica del Paese. Siamo quindi contrari all'estensione del pareggio di bilancio anche agli enti locali. Il pareggio di bilancio va infatti nella direzione opposta alle politiche che salvaguardano il livello essenziale di prestazione ai cittadini, oltre che tarpa completamente eventuali politiche di investimento per uno sviluppo sano del Paese. Riteniamo doveroso che il Governo, invece di effettuare trasferimenti non adeguati e sistematicamente ogni anno si ripropone la stessa olfa e provvedimenti quali questo provvedimento, che imbrigliano ancora di più la manovrabilità dell'ente locale, scaricando quindi sull'ente locale in primis e di conseguenza sui cittadini l'onere dell'austerity e il costo dell'errate politiche economica di questo Governo e dei suoi predecessori, dovrebbe invece prendersi carico dell'onere di mantenere i servizi ai cittadini a livelli ottimali, ovunque e ad ogni costo. Il Governo al contrario introduce una disposizione che consente di disporre di differenti modalità di recupero in base alle esigenze dei saldi di finanza pubblica, lasciando quindi a se stesso la discrezionalità di poter eventualmente agire con un recupero forzoso. Esprimiamo perplessità anche alle disposizioni che regolano il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali, in caso di ciclo economico avverso o eventi eccezionali, non provvedendo alcun apposito fondo, demandando al futuro la determinazione dei criteri per il concorso per assicurare proprio i livelli essenziali. I livelli essenziali, Presidente, civili e sociali verranno garantiti solo se il Governo deciderà di farlo. Ci ramaricchiamo molto che il principio basilare di civiltà nei confronti dei servizi per i cittadini venga lasciato alla merce dell'esecutivo di turno. Queste misure fanno sì che gli enti locali siano sempre più stretti sotto una morsa e costretti a svendere i servizi fondamentali al settore privato, che in questo modo lucra in settori a domande relativamente costante, visto che non è pensabile rinunciare alle cure, all'istruzione e al trasporto. È la visione di base questa con la quale il Governo affronta la guida del Paese che è completamente sbagliata. Noi non ci stancheremo mai di dire che chi si trova al Governo deve avere come perno centrale il benessere dei cittadini, non l'austerità, non il benessere delle banche e tantomeno i vincoli di bilancio che arrivano dall'Europa. E su tale perno, il perno del benessere dei cittadini dovrebbe incentrarsi tutte, ogni misura che si mette in campo e che viene messa in campo da un Governo per i cittadini. Il Movimento 5 Stelle, Presidente, non volendo essere complice come sono stati complici in varie occasioni i partiti, soprattutto come in questo caso nel 2012 con la 243, il Movimento 5 Stelle non vuole essere complice di questo ennesimo ribaltamento di politiche errate che viene fatto sulle spalle dei cittadini. E per questo noi non abbiamo problemi ad esprimere per l'ennesima volta su questa tipologia di provvedimento il nostro voto completamente contrario. Siamo contrari e convintamente per il no a provvedimenti come questo, perché siamo contrari al fiscal compact, perché siamo contrari ai vincoli di bilancio europei, quegli stessi vincoli di bilancio che ci chiede l'Europa di rispettare e poi paesi, prendiamo per esempio la Germania, non rispetta, da ultimo delle interrogazioni che abbiamo presentato proprio nelle scorse settimane in merito al livello di esportazione del paese della Germania stesso, un livello di esportazione ben superiore al 6%, 6,2%. Siamo contro queste tipologie di vincoli di bilancio che vengono imposti ai paesi che non hanno governi con la schiena dritta in Europa e che vengono poi sempre stravolti dai paesi che hanno la voce un po' più alta della nostra o di questo esecutivo. Siamo contro un governo prono, completamente prono, e siamo contro a un governo che accetta sistematicamente di fare ciò che l'Unione Europea e l'Unione bancaria, che ancora non esiste sulle carte, ma effettivamente c'è, perché sono le banche che governano il nostro paese e la finanza europea, continuano a chiedere. Ed è per questo motivo che noi vorremmo allentare in maniera decisa le maglie di questi vincoli di bilancio, fare debito per gli investimenti produttivi, non per continuare a svendere i nostri asset, non per continuare a rispettare dei vincoli che non danno niente ai cittadini. Per questo motivo ribadiamo fortemente il nostro voto contrario, sperando di arrivare presto a rimettere mano a queste leggi che stravolgono i servizi essenziali dei cittadini e poterli invece fornire sempre in maniera opportuna, decisa, perché il nostro primo interesse è il benessere stesso dei cittadini. Grazie. Grazie. Grazie.